Ciao, grazie di essere qui a... Vi dico la verità, non l'abbiamo preparata a questa intervista, la stiamo facendo adesso, assolutamente sì. Noi abbiamo preparato per voi stasera, perché devo riprenderteli la domanda, la musica. Esattamente, con anche la performance, cioè lui la fa e io la ballo. Noi facciamo Electro-Bobalin, anzi io faccio Electro-Bobalin, lei balla l'Electro-Bobalin. Proprio così, io ballo l'Electro-Bobalin. Potrei darti una definizione di Electro-Bobalin? No, proprio no, te la scordi, lei non può neanche parlare su questa domanda, perché lo faccio io l'Electro-Bobalin, quindi te la scordi la definizione di Electro-Bobalin, perché mi hai preso. Che ore sono? Non lo so, non ho l'orologio. Kimberly, fa una domanda sui voi DJ, non abbiamo detto prima, quello di prima era che le doveva fare una domanda. Perché indossi quelle scarpe? Perché ho dei problemi ai piedi. Ragazzi, questa sera non torniamo a casa, dormiamo qui in un albergo a quattro stelle, mentre voi tornate nei vostri monolocali senza climatizzatore. La Commissione adesso si riunisce per darvi una valutazione e vi faremo sapere. Sì. Mi sembra corretto. Grazie, lui ha detto grazie, quindi dico prego. Preghissimo. Io speravo solo che mi prestassi le scarpe una volta, però poi basta. Grazie. 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 Grazie.